Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento meteo. Le nevicate non sono finite, infatti guardate nel corso della giornata di giovedì nevicherà su gran parte del nord e anche sull'alto versante adriatico e tra l'altro attenzione perché queste nevicate saranno particolarmente abbondanti soprattutto tra Emilia Romagna e Liguria. Per quanto riguarda il tempo nel resto d'Italia guardate avremo un po' un'alternanza tra sole e nuvole con le nuvole più compatte al centro-sud e qualche debole pioggia ma soltanto sulle nostre regioni meridionali e anche sul nord-est della Sardegna. Tra l'altro proprio giovedì avremo il vento di Scirocco che soffierà soprattutto al centro-sud e che provocherà un aumento delle temperature massime. Dunque possiamo dire che giovedì saremo in balia degli sbalzi termici, infatti guardate ad esempio a Palermo registreremo uno sbalzo termico di ben 8 gradi. Intanto io vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli in base alla località potete consultare il nostro sito www.meteo.it oppure potete scaricare la nostra applicazione gratuita.